All'unità spinale di Niguarda è stato presentato Locomat, un'innovativa apparecchiatura per la fisioterapia per i pazienti con lesioni al midollo. Siamo andati a vedere di che cosa si tratta. Si chiama Locomat ed è un esoscheletro robotizzato che permetterà alle persone che soffrono di lesioni al midollo spinale di migliorare le attività di fisioterapia. Una vera e propria innovazione nel campo della riabilitazione motoria che permetterà di aumentare notevolmente le potenzialità di movimento. Oggi all'interno dell'unità spinale di Niguarda è stata presentata l'apparecchiatura robotica già diffusa nei più avanzati centri di riabilitazione internazionale. Il Locomat è una macchina per la riabilitazione del cammino che è composta principalmente da tre parti. C'è un sistema che sgravia il paziente del peso del suo corpo seguendo le oscillazioni del passo. Un sistema robotizzato che lo aiuta o lo assiste completamente nell'avanzamento del passo per cui nel cammino. E un treadmill per cui è un tapirulano fondamentalmente dove poi il paziente cammina. Al battesimo del Locomat era presente anche il caporal maggiore degli alpini Luca Barisonzi, rimasto gravemente ferito in Afghanistan in un attentato nel gennaio dello scorso anno. Barisonzi si è impegnato in prima persona per promuovere la raccolta fondi per l'apparecchiatura. 390 mila euro il prezzo del Locomat che è stato finanziato grazie alle donazioni di fondazioni e cittadini.